La Dragonese continua la sua corsa ai play-off, il vero obiettivo della stagione, nel campionato di terza categoria dopo due sconfitte che facevano temere un calo di entusiasmo, ma non è stato così. Ne sa qualcosa un decimato Pietramelara che ha perso malamente sul campo di Dragoni con un punteggio pesantissimo, 6-0. Già nel primo tempo la Dragonese aveva chiuso la gara e aveva dimostrato la sua supremazia contro un Pietramelara che comunque è uscito a testa alta da una gara difficile già alla vigilia. Ed ora vi lasciamo alle interviste di fine partita fra il consueto siparietto della squadra di Mister Marra, assente per motivi di salute e più volte invocato dalla tifoseria. Prego la regia di mandare in onda le interviste e seguire ai protagonisti della gara e sentiamo che cosa ci hanno detto. Allora, dopo due brutte sconfitte oggi è arrivato un risultato alla grande. Dopo le due sconfitte, una fuori casa e una in casa con Piana e Treglia, abbiamo fatto una bella prestazione in casa. È quello che ci aspettavamo dei nostri ragazzi, una bella soddisfazione per quanto riguarda il risultato. L'obiettivo rimane sempre lo stesso, quello dei play-off. Per ora ci siamo alla grande. Inaspettato, fino a sei mesi fa non esisteva niente di quello che vedete qua. Quindi abbiamo creato questa realtà, un progetto che è nato quest'anno con la speranza che possa andare avanti, anzi sicuramente andrà avanti con altre cose. Un breve messaggio, un saluto al Mister. Un saluto al Mister, sicuramente, anzi la prima cosa, un saluto al Mister. Per una pronta guarigione, vi aspettiamo qua sul campo quanto prima. Sta combattendo alla grande, abbiamo saputo che sta in ripresa, netta ripresa. Il risultato di oggi è stato dilagante, te lo aspettavi? Allora, oggi è chiaro che sapevamo di affrontare comunque una squadra abbastanza ben organizzata. Ora la classifica magari la condanna un pochino, ma è comunque una squadra organizzata. Noi abbiamo in questa settimana prodotto il massimo per poter fare una buona prestazione oggi e effettivamente ci siamo riusciti. Una dragonese fortissima, sicuramente alla vigilia lo sapevate, no? Ma vi aspettavate un risultato così dilagante? Ce lo aspettavamo perché il Pietramelare si è presentato con 5-6, mancavano 5-6 titolari. Infatti ha giocato anche un dirigente, il portiere era un dirigente. Dove può arrivare questa squadra? Nonostante fino ad oggi non abbiate fatto nessuna vittoria, vedo che alla fine quello che conta è l'entusiasmo. Il nostro obiettivo è infatti una vittoria. Come spiega questo entusiasmo così forte per questa squadra? In fondo è una squadra di terza categoria, anche se i risultati alla fine stanno venendo. Sì, allora Ultras Draghi è un gruppo di ragazzi che credono nel proprio paese, cioè Dragoni, e anche se è una terza categoria noi siamo uniti, cerchiamo di fare il massimo per il nostro paese, con ideali e chissà qualche nuova, qualche possibilità per il futuro. Anche per i giovani perché vedo molte persone che ci seguono e voglio ringraziare soprattutto questi ragazzi che ogni domenica mettono anima e cuore per questo paese e ci credono veramente. Da Dragoni è tutto, Lorenzo Applauso e Serafino Muzzo per casertasera.it